tutti nel faggio questi qui escono sotto le foglie perché li raccogli proprio tu i porcini ma noi non ci riveli dove li vai a cercare vai nel bosco li trovi io ci vado nel bosco ma non sono così fortunata ciao a tutti da gioia emilia romagna vi facciamo vedere questi porcini che sono spettacolosi oltre che buonissimi ma abbiamo anche le castagne di tutte le misure e qui abbiamo sauro che ci spiega vai sauro perché lui lo trovate proprio davanti all'albergo ristorante il cacciatore di fronte al lago di acqua partita con il suo banchetto dove appunto vi propone i prodotti del momento le castagne le noci e i funghi porcini vai sauro tutta roba locale scelta selezionata a chilometro zero non ha conservanti non additivi come la natura la crea cosa c'hai ci fai vedere i marroni allora marroni prima scelta sono buonissimi e qua invece cosa abbiamo questa è la terza scelta e prima seconda e terza ecco qua guardate guardate vi aspetta oggi abbiamo anche le mandorle e queste cosa sono per la pera volpina ok a questo non lo sapevamo neanche queste sono i vostri alberi allora poi oggi non ci sono ma li potete trovare domani 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 avrai ammellate miele fragolino castagne sotto alcol tutto tutto fatto tutto fatto da me perfetto noi ti ringraziamo e qui dal lago di acqua partita per oggi è tutto vi aspetta sauro